salve a tutti ragazzi come sono iniziate le vostre vacanze natalizie spero bene volevo rendervi partecipi della prima patch chiamiamola così che ho applicato al canale e che riguarda in particolar modo il mio sito internet allora ho aggiustato veramente veramente tante cose e ho migliorato la navigazione lato desktop aggiungendo questa navbar qua che permettetemelo è veramente 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 molto stilosa inoltre sulla home potrete ora divertirvi a leggere alcune delle citazioni dei personaggi più importanti della storia dell'informatica e a breve ne aggiungerò sicuramente delle altre ma per ora ho inserito solamente le mie preferite poi abbiamo la sezione games dove via via aggiungerò tutti i giochi che riuscirò a portare su pc ovviamente sono tutti liberamente scaricabili come vedete poi la sezione software anche questa è stata veramente migliorata e ho aggiunto altri programmi anch'essi totalmente liberi gratuiti e per i più magnanimi madonna io ci sono gli apini io non so dalle vostre parti ma gli api car non si fermano neanche per la vigilia di natale cioè questa gente qua lavora sempre io non insomma chiudiamo la parentesi vi dicevo che per i più generosi ho creato questa finestrina qua che sto muovendo e niente se vi piace il mio progetto e se ciò che trovate sul mio sito comunque se ve la sentite ok se volete potete lasciare una donazione via paypal poi abbiamo la sezione mister robot channel che non è nient'altro che una raccolta di dei video più interessanti e utili che potete trovare direttamente sul canale youtube e infine c'è la sezione informazioni dove potete trovare i contatti niente dove abito se volete anche venirmi a trovare si prende un caffè più che volentieri inoltre una doverosa comunicazione di servizio la pubblicazione dei video sul canale è sospesa fino al 7 gennaio causa ristabilizzazione del mio equilibrio psicofisico e organizzazione dei nuovi contenuti da portare con l'anno nuovo concludo il video augurandovi buon natale e felice anno nuovo a risentirci grazie a tutti